ciao bambini ciao bambine benvenuti sul canale di didis toys oggi faremo una storia bellissima ci sarà ariel flanders e cenerentola e tanti altri personaggi che ci aiuteranno a vivere un'avventura fantastica e soprattutto ci sarà una carrozza magica wow siete pronti bambini se vi piace il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale oh flanders dobbiamo andare a un ballo questa sera ci hanno invitato ma io non ho un vestito e come potremmo andare al ballo io non ho una carrozza ho solo questo questa carrozza è carinissima c'è anche un bellissimo cavalluccio marino viola però non posso entrare insieme alle mie amiche qua sopra come potremmo fare sta per arrivare cenerentola parlerò anche con lei ariel grazie mille per avermi ospitato io devo andare al ballo ma anche io non non ho il vestito cosa possiamo fare non lo so cenerentola ma qualcosa dobbiamo inventarci perché lì ci saranno anche le nostre amiche e dobbiamo sicuramente divertirci questa tua carrozza è bellissima ma no non riesco proprio a immaginarmi di andare al ballo così non riusciremo a entrare tutte è vero e non ci si può riuscire e poi il cavalluccio marino non può passare non ce la fa a camminare con noi sopra siamo troppo pesanti per lui oh tesoro non ti preoccupare sei bellissimo un bellissimo cavalluccio marino io però ho un piano guarda cenerentola ho preso questo dal mio rifugio segreto guarda potremmo metterci a costruire noi una bellissima carrozza o comunque una macchina o un carro quello che è vi va bambini di aiutarci? si e ora iniziamo a creare una macchina benissimo ora dobbiamo per prima cosa creare una base ok una volta creata la base bambini dobbiamo mettere i lati ok guardate un lato il secondo lato il terzo lato e poi mettiamo il tetto che dite? bello oh perfetto cenerentola questi sono i pezzi poi ci manca l'ultimo per chiudere allora proviamo a entrare ok in questa carrozza ok bambini ci proviamo ora mettiamo anche l'ultimo tappo beh non è proprio quello che mi aspettavo e poi siamo comunque ancora a senso a vestiti vabbè proveremo iniziamo ad andare così ok? flanders si che c'è? dovresti portarci tu? io? ma come faccio a portarvi? pesate troppo oh invece devi provare ok che fatica oddio che fatica non ce la possiamo fare proprio faticoso oh 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 attenzione oh no oh ai oh ai oh ai la macchina si è distrutta oh tenerentola tutto bene oh aria siamo riusciti a fare qualche metro ma oh flanders sei stato carinissimo e dolcissimo a portarci nessun problema amiche ma ora come possiamo fare? chi potrà aiutarci? oh no mi sa che il ballo non potremmo andarci bella dovrebbe arrivare ma dove sarà? ehi perché non avete vestito? chi parla? oh bella sei arrivata sì perché non ci avete il vestito? dove andranno? perché non abbiamo il vestito? oh beh è una lunga storia ma come sa? non abbiamo il vestito come sa possiamo fare? ma chi è questa carrozza rotta? era la nostra carrozza ma no è tutta rotta ora ci servirebbe l'aiuto di una fata magica io conosco la fata magica io conosco la fata magica conosci una fata magica? sì davvero? sì oh chiamala per favore fatina ecco la fata magica cosa c'è bella? che succede? loro hanno rotto la carrozza e non c'hanno nessun desiderio oh ci pensero io mi sembrate delle bravissime ragazze ora io ce l'ho già da guarda guarda è vero ora farò la mia magia bidibi bodibi buuuu oh bidibi bodibi buuuu wow ma questo vestito è meraviglioso anch'io anch'io per favore fatina ok bidibi bodibi buuuu oh fatina grazie ora siamo tutte e tre pronte per il ballo vero bel? sì hai ragione arriva il ballo però la vostra fata è ancora lì è rotta non vi preoccupate ci penserò io anche a questa guardate allontanatevi ok perché la magia è potente Flander tu mi servirai diventerai un bellissimo cavallo un cavallo un cavallo oh ok e bidibi bodibi buuuu wow guardatemi sono Flanders ma ora sono un cavallo e guardate che bellissima carrozza wow bambini ma è meravigliosa vero? sì è meravigliosa prego entra bell ottimo ora entro io e infine tocca a me non vedo l'ora di andare al ballo tutte insieme amiche guardate guardateci siamo bellissime dentro la nostra carrozza è vero questa è una carrozza meravigliosa e fa anche dei rumori vediamo eh si illumina ciao bambini siamo arrivati siamo arrivati al ballo wow siamo arrivati al ballo amiche ma che bellissima carrozza ma è stupenda sì ci ha aiutato una bellissima e bravissima fata madrina oh guardate e il cavallo non è altro che flander oh flander bene volete fare un giro prima di andare al ballo tutte insieme sulla carrozza sì ok allora tutto è a bordo c'è spazio per tutte ok uno due tre mettiamole tutte quattro e poi noi due potremmo metterci davanti guardate ci sono i posti anche davanti uno e due guardate è bellissima questa carrozza piena di principesse bene flanders parti andiamo a fare un bel giro ok ciao bambini ciao bambini bambini bubhi bubbi Grazie a tutti